Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Between Horizons, un gioco uscito il 25 di marzo, costa 15,99€, attualmente, mentre lo sto giocando, è a 14,39€, quindi un 10% di disconto. E praticamente di che cosa si tratta? Si tratta di un gioco in cui vestiremo il ruolo di una ragazza che è su una stazione, chiamiamola stazione spaziale, in realtà è un'astronave. Questo è lo Zephyr, una nave che porta l'umanità verso la salvezza. L'inizio è davvero interessante perché lei fa una riflessione e dice io sono stata qui convinta di vedere lo sbarco umano e mi rendo conto invece che lo sbarco lo vedranno solo i miei pronipoti. Questa è la cosa che introduce al gioco. Il gioco è in inglese, ve lo dico subito, ed è un gioco che io giocherò, finirò, se un domani verrà tradotto in italiano perché è veramente interessante. Al momento potrei giocarlo anche in inglese ma lo trovo un po' forse stressante soprattutto quando si è stanchi. Proviamolo, vediamo, ho già fatto due minuti, giusto l'inizio, ed è un gioco dove noi saremo portati a investigare su delle cose, a raccogliere delle prove, conoscere gente, prendere delle decisioni appunto per trovare il colpevole e la storia cambierà ed è ambientata in un semi-open world all'interno di questa stazione. Ora, vi faccio vedere, questo è l'inizio dove noi veniamo chiamati di sopra, da nostro padre, mi pare, e premendo M vedete che abbiamo la mappa dove noi dobbiamo andare al piano di sopra, che è qua. e la stazione, come vi dicevo, è circolare perché vedete che andando, ruotando, andando avanti ci sono tutte le zone, questa è la biological area, poi abbiamo la command area, l'in, il command, cioè si passa avanti perché è appunto circolare questa cosa. Qua abbiamo la dashboard dove noi siamo stella, abbiamo, vabbè, la security PDA, abbiamo tutte le nostre informazioni e qua abbiamo le missioni da fare. E poi avremo i casi, avremo le prove che raccoglieremo qui e le comunicazioni. La grafica è una pixel grafica, adesso dobbiamo salire al piano di sopra, quindi da qui e andremo a... no, vorrei... ok, vorrei andare a vedere dove devo andare. Ok, siamo qui e a breve arriviamo, questo dovrebbe essere il posto. Cosa volevi dimostrarmi? Perché lei era già andata a dormire e invece l'ha detto, no, puoi venire su un attimo. Ho levato i timer, in modo che posso leggere con calma. Il nostro messaggio dalla Terra per il giorno dell'arrivo è arrivato in anticipo. No, i nostri messaggi dalla Terra per l'arrival day celebrations sono arrivati prima. Di già. L'arrival day è ancora lontana di settimane. Sì, ma ci hanno mandato il messaggio in anticipo per essere sicuri che l'avessimo in tempo. La Terra ha una sorpresa per noi quest'anno. Che sorpresa. Tutti hanno ricevuto dei messaggi privati dai loro parenti. Noi abbiamo il nostro, un messaggio personale da mamma, stella. Da mamma, virgola, stella. Ci puoi credere? Navigator Joseph Ok. Andiamo. New evidence, Elizabeth. Oh mio Dio, non mi ero preparata niente. Solo detto che avrei potuto dirvi qualcosa in privato. Come va là fuori? Tutto bene? Spero che le cose vadano meglio di quanto non stiamo andando sulla Terra. Abbiamo avuto ancora di blackout. Sono così preoccupata. Ok. Abbiamo ricevuto recentemente il video che avete mandato l'anno scorso. Stella Non ti ho mai vista in uniforme prima. Wow. E William Sembri che tu non sia invecchiato di un giorno. Sempre un bell'uomo che ho incontrato 40 anni fa. Ricordi quella notte eravamo su quella nave che era chiamata qualcosa Sparrow Sono orgoglioso di entrambe voi. Questa missione è qualcosa di incredibile è una cosa enorme insomma. tutti fanno il tifo per voi insomma dipendono da voi sono molti anni che ve ne siete andati ma non mi sembra ancora reale. Spero che questi messaggi vi arrivino vi penso insomma sono preoccupato per voi ogni anno è tutto vedete di più di me nei video pubblici va bene buon arrival day vi amo tutti e due sembra che non gli abbiano dato molto tempo per registrare vabbè una bella opportunità non so forse c'è qualcos'altro negli altri files arriveranno in un'ora posso rispondere gli dico everything in the night è tutto ok papà qualcosa che mamma ha detto mi ha preoccupato che cosa? non è possibile che lei abbia dimenticato il nome della nave sulla quale ci siamo conosciuti devo parlare al capitano della mamma? non direttamente scusa non posso aspettare scusami ti spiego più tardi ma che ok la storia si fa interessante l'arrival day non ho capito cos'è perché avevo capito che all'inizio che saremmo arrivati tra generazioni comunque la storia ci viene una chiamata cosa succede stanotte? ok è arrivata una chiamata sergente Adalrich assistente chief stella sei con tuo padre? sei appena andato vuole parlare al capitano forse tu puoi step in puoi arrivare un attimo venire un attimo che al security office si sarò lì in un minuto sei già vestita? si perché? dovresti controllare una cosa ti spiego quando sei qui sembra che tu abbia bisogno di pulire la tua rispolverare la tua scanning ability trigger it ok premendo spazio gli oggetti su cui puoi investigare sono evidenziati di blu per un piccolo periodo di tempo collezionali camminando in range premendo E ok ok quello bonsai ok qua ho già sbloccato le evidences ok una volta che è stata collezionata una prova viene creato il file nel pda nella pad del tab delle evidence nelle prove quindi praticamente prova di nuovo si ho capito no non voglio ripetere tutto riproviamo c'è qualcosa lì Bill & Leeds che sarà boh non so Bill & Leeds il bonsai l'avete già guardato credo si vabbè andiamo a comandare andiamo via vorrei dare un'occhiata non capisce che cosa vuole fare suo padre ma va bene dove dobbiamo andare vediamo se c'è la dashboard no cases mio papà sta aspettando ok siamo andato il sergente Adler ci vuole vedermi al security office ma where is security office biological no è qua sotto qui ok quindi dobbiamo scendere di sotto va bene iniziamo a scendere poi vediamo 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 perché poi dovremmo anche determinare i colpevoli delle varie situazioni che capitano in questo mondo allora siamo qua abbiamo sbagliato ancora strada devo scendere ancora mi sa devo iniziare a capirci qualcosa adesso ok vediamo se è giusto ok di qua no dove scendere di nuovo adesso adesso sarà da magari qualcuno poi un domani lo tradurrà lo spero perché sarebbe veramente un bel investigativo soprattutto anche da magari portare in live ricorda di tenere premuto lo shift quando corri sto già correndo come un pazzo allora noi siamo qua dobbiamo andare qui che location nascosta ma dov'è sta location in cui dobbiamo andare ah qua sopra dobbiamo capire come andare su ah c'è un ascensore ok train station possiamo prendere addirittura anche al train station luis prima persona che conosciamo ehi stella ehi luis che succede ancora al lavoro come sempre c'è un problema di sicurezza ho bisogno di controllare a quest'ora sun boundaries non so cosa sia è per il mio lavoro ok bene peccato stavo per chiederti se volevi unirti a me e altri al bar ma davvero forse domani ho già altri piani per domani scusa ma forse presto ti mando un messaggio no mandami un messaggio quando sei libero ok lo farò va bene l'asciugone ce lo siamo levati ok prendiamo l'ascensore andiamo su ma si capisce abbastanza e devo dire poi ovvio come dicevo non è la cosa ideale diciamo da da giocare quando si è stanchi queste sono le celle mi michio ancora una volta ubriaco è ingegnere michio felice di vederti comunque tu sai che non c'è bisogno di chiudermi in cella i tuoi tizi della sicurezza vabbè sì non facciamo le regole ok dove hai preso tutto quell'alcol non dovremmo avere abbastanza ticket per diventare ubriachi perché gli danno probabilmente i ticket per mangiare è una questione di priorità non sto facendo niente di illegale non lo farei mai vabbè niente ho capito che non è qui che dobbiamo andare questa è sì infatti c'era scritto anche che era la prigione quindi vabbè mi hanno trovato la prigione questo è l'ascensore giusto sono finito nelle nelle celle dai andiamo su livello vedete che qua vi da anche l'icona molto carino saliamo ma il gioco è bello cioè fatto bene sarebbe bello appunto come ho detto averlo tradotto spero che magari qualcuno veda questo video che perché non credo saranno 500.000 righe di testo un po' saranno sicuro però calcolando che è una storia di open world premendo è vicino a una persona inizia la conversazione se non hanno il simbolo ok non potrei parlarci allora chi è con chi è che devo parlare scusate lui good evening sergenti assistant chief hey stel paul chiamala correttamente ma addirittura cioè proprio così dai papà ok quindi sono padre e figlio anche loro dobbiamo seguire no vuoi chiamarmi stella è ok aderich non deve chiamarmi col titolo tutte le volte come vuoi vorrei però puntare che tuo padre ripone grandi importanze sulla procedura comunque parliamo della ragione per cui ti ho chiamata una porta nell'area del network ha attivato un'alarma di sicurezza abbiamo alcuni falsi rapporti di fails report per dei sensori difettosi potrebbe non essere niente tuttavia ho provato a controllare con il programmatore Aaron che lavora laggiù e non risponde è possibile che stia indossando dei tappi per le orecchie e delle protezioni dei rumori ma dovremmo controllare che sia tutto ok potresti prendere l'ascensore giù alla inner hall e controllare certo posso chiedere un rinforzo per venire con me non penso che sia necessario il programmatore Aaron dovrebbe essere nel network office ok andrò e farò report ok abbiamo trovato anche le communications quindi abbiamo sbloccato tutti i menu no non voglio ripetere il tutorial salve signore non si parla se scansionassimo un po' di roba anche qui no non credo sia niente però è strano perché c'è già un mistero del padre che si sospettisce perché la madre non ricorda nulla quindi chissà cosa sta succedendo sulla terra comunque dobbiamo prendere l'ascensore e andare giù giù dove non lo so qua credo sia network ok network office quindi bisogna andare giù di due piani quindi andiamo quindi siamo al piano 2 dobbiamo andare giù cos'è siamo interrato forse meno 1 sì questo che succede ma che che succede alla porta broken door ok porta rotta ok continuiamo a scansionare perché metti che network evidence ok vediamo un po' non siamo dove network access point network office no voglio dare un'occhiata qua prima è un 2.5d la grafica non è proprio 2d perché è vuota leggermente ah comunque qua si raggiungiamo lo stesso la stessa location ma voglio comunque investigare internet terminal perché poi cavoli potrebbe essere un problema giocarlo in inglese perché ci sono tante informazioni che potrebbero sfuggirci anche se è tutto comunque programatore Aaron stai bene? o che è successo? la mia testa mi fa così male è bruciata sul sulla parte dietro che è successo? penso che qualcuno mi abbia colpito cosa significa? sono andato alla caffetteria per il mio break della sera a cena e sono tornato un po' prima del solito stavo lavorando su un nuovo data routing un algoritmo nuovo di data routing e avevo un'idea che non volevo dimenticare così sono tornato indietro e la porta dell'area network era rotta ho voluto controllare che tutto fosse ok nel mio ufficio e quando sono entrato qui qualcuno era in piedi davanti alla mia scrivania qualcuno chi? non lo so penso un uomo mi è saltato addosso ha colpito la mia testa e tutto quello che ricordo ok papà ah c'è una chiamata è successo qualcosa qua giù Aaron è stato attaccato attaccato che sta facendo? lui sembra ok ma la sua testa è bruised è ammaccata immagino non bruciata manderemo un team medico chi lo ha attaccato non lo so ha detto che la persona was disguised e disguised è sempre bene tenersi un traduttore mascherato ok in questo caso aiuta anche a imparare nuovi termini sembra che si è entrato nella network area la porta all'entrata è stata rotta informerò il sergente Adalrich che poi si capisce niente lasciare google traduttore aperto sotto fare al tab tradurre ci si riesce si capisce il problema secondo me avendo l'inglese è il fatto dei nomi tanti nomi tanti particolari tante cose difficile da capire bene o male su un gioco Shadow of Doubt c'era lo schemino dove uno metteva giù le cose e mai saliva facilmente le informazioni qua magari può essere dato che è un narrativo potrebbe essere un po' più un problema hai un'arma? si sarò lì in pochi minuti ok nel frattempo dovresti dare un'occhiata e parlare ad Aaron forse puoi trovare qualcosa del salitore nella zona sono lì ok vediamo questo questo dispositivo sul provimento che è forse il programmatore Aaron può dirmi a proposito di esso hai trovato una prova interessante il progresso nel tuo caso sarà mostrando l'evidenza alle persone giuste puoi sempre mostrargli una prova che hai collezionato premi F per scegliere di cosa parlare no non voglio ripetere il tutorial ci sta insegnando tutto il gioco network tool io vado qui con lui vedete posso parlare o mostrargli la cosa e questo è molto bello io ho trovato questo network tool posso parlargli di Kiki che è il mio cangatto cangatto non so che devo avere nell'appartamento e delle varie persone io ho imparato questo sai che cos'è questo è uno dei miei tools dove l'ho ritrovato vicino alla porta della network access point la porta lì non l'ho messo lì potrebbe essere stato usato dall'intruso non sono sicuro ho bisogno di accedere hai bisogno di accedere hai bisogno di lui per accedere e manipolare data sui terminali ok quindi probabilmente lo stavo usando qua c'è un modo di scoprire che cosa ha fatto sarebbe un buon inizio iniziare a capire quale network ha manipolato ti garantirò l'accesso al terminale ogni terminale mostra una visualizzazione dei dati che sono mandati nei rispettivi network nelle ultime 24 ore Ferid ha creato la visualizzazione un pochino indietro per renderla leggibile anche ai non tecnici insomma la parte sinistra è stata quella mandata la parte destra è quella ricevuta se un network è stato manipolato dovrebbe esserci alcune irregolarità sul terminale ok gli darò uno sguardo ok e qua continua ad aggiungersi roba la soluzione a un caso è sempre un pezzo è sempre un pezzo di prova puoi assegnarlo dalla selezione qui una soluzione è stata assegnata un submit ok come succedeva tu da solo decidi quando mandare la soluzione del caso stai attento se non sei confident con le tue conclusioni non c'è punto di ritorno infatti il gioco non salva non è possibile salvare a mano ma si salva solo nei checkpoint un salvataggio vero dragonstock ma no mi da accesso al terminale quindi io vado al terminale è qui il terminale no sì no no perché mi ha detto che mi dava l'accesso no questo sono uscito qui no quando spontanea no adesso vi dava accesso al terminale per controllare i dati qui dentro forse dare un'altra occhiata a un ambiente che hai già visitato prima e spesso può valerne la pena se hai un sospetto su qualcosa che è cambiato nel frattempo questo è molto bella come cosa per esempio potresti trovare oggetti che sono stati alterati in alcuni modi che non erano lì prima o non erano considerati rilevanti prima e questo è molto bello quando collezioni una prova ancora se dopo che è cambiata la descrizione cambia anche nel tuo pad no ok quindi non ho capito niente di quello che ho fatto perché non ho guardato nulla di questo evidence comms praticamente tutto quello che ci siamo detti io e le altre persone le prove abbiamo questo recycling terminal un terminal che monitora il trasferimento di data di dati ok sono lavoratori ok abbiamo raccolto tutte queste parole qua inviate e ricevuto quindi inviate questo ricevute questo sono stati alterati ma non posso però andare a vedere niente qui ok vediamo se posso parlargli ho fatto alcune domande cosa voleva l'intruso puoi avere un'idea di quello che volesse non ho avuto molto tempo per pensarci ma da quando eravamo nell'area network no ok ci guardano guardo io aspettiamo investigherò l'area ok cosa dovrei trovare in quest'area i vari ship network devono essere monitorati puoi accedere dalla prossima porta ok that's all ma quindi io dovrei usare il suo no mi ha dato l'accesso posso usarlo tranquillamente ma qua è dove ero prima non c'è niente qua c'è l'ascensore e qua si gira in cerchio molto complesso molto bello anche devo dire si no continuo a tornare indietro ehm si anche qua ragazzi io credo di beh avervi intrigato il gioco è assolutamente intrigante fatemi sapere che cosa ne pensate il prezzo è assolutamente ottimo calcolando che non è neanche in early access se non sbaglio gli stessi sviluppatori hanno realizzato anche la cuna a sci-fi noir adventure che è simile ma non in ambientazione così eh futuristica credo più noir non tradotto nemmeno quello quello in realtà non so se sia stato tradotto comunque fatemi sapere che ne pensate spero ripeto che magari qualcuno lo noti e decida di di tradurlo magari un domani fatemi sapere sotto nei commenti come al solito alla prossima e ciao ciao grazie a tutti